Un buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa, quella di mattino 6, siamo pronti per andare a vedere le principali testate nazionali e regionali, ovviamente con le principali notizie di questo sabato 4 agosto, ci avviamo al weekend, entriamo all'interno del weekend, allora cominciamo con i giornali di casa nostra, partiamo con il centro, dalle prime pagine, in questa prima parte, questa è l'apertura del centro edizione di Pescara, che apre con la cronaca, lite con l'accetta tra vicini di casa, volano sedie e oggetti dal balcone, l'aggressore in ospedale, a centro pagina la visita del vice premier Luigi Di Maio che incontrerà i suoi sostenitori stasera a Pescara, appuntamento in piazza Salotto, ministro anche dello sviluppo economico e del lavoro. Andiamo a vedere i box che contornano la foto notizia, verso le elezioni, caso d'Alfonso, mercoledì le dimissioni, ma non bastano, il caso d'Alfonso si risolverà a settembre e non in soli tre giorni, a confermarlo sono fonti del centro d'estere del PD. Altro box, Marchionne, c'è il mistero sul funerale del manager, forse leggiamo è stato cremato. Nelle cronache, sempre a Pescara, il progetto sosta 2 euro sulla riviera, no dei balneatori che bocciano l'ipotesi di mettere i parcheggi a pagamento a 2 euro l'ora sulla riviera Nord, contenuta nel piano finanziario collegato al progetto aree di risulta. Per lo sport domani la Coppa Italia, Pescara verrà ingaggiati Crecco e Scalera, gli ultimi due arrivi in Casa Bianca Azzurra. Restiamo a Pescara, trova 1.500 euro e lì restituisce carrozziere di origini pakistane, riconsegna il portafoglio all'imprenditore Gabriele Bancoschi. Bella notizia questa comunque. Questa è la prima pagina dell'edizione di Pescara. Andiamo sull'edizione di Chieti. Lanciano e Vasto, l'apertura è sempre cronaca, muore a 23 anni mentre va al lavoro. Tragedia a San Salvo, Vittorio Altieri, ingegnere di Vasto, si schianta in moto. Vediamo la fotonotizia a centro pagina. Dal Bisturi alle fiere l'urologo Schips e il mastro giurato Lanciano sfilerà nel corteo storico del 2 settembre prossimo. Vediamo che cosa cambia. Andiamo nelle cronache. Chieti, tassa di soggiorno 30.000 euro spesi in gettoni. Non si trova l'accordo per la tassa di soggiorno a Chieti. Dopo sette riunioni tra giunta commissione e consigli si continua a litigare, già spesi 30.000 euro in gettoni per i consiglieri. Sembracchietti, maestra travolta. Un anno fa le strisce c'erano e poi in basso sotto la foto Ateneo telematico. Gli indagati adesso sono 10. Sotto accuse il pacchetto delle quote ceduto all'Università Slovacca SEBS. Andiamo sull'edizione teramana del centro. Il giudice, la Tercas, era solida. Per questo sono stati assolti 28 imputati nel processo per le azioni. A centro pagina la fotonotizia. Pineto in bici da oggi parte il servizio di noleggio per turisti e residenti. Presentazione dell'iniziativa del comune davanti a Villa Figliani, proprio a Pineto. Nelle cronache Teramo asili più posti ma è polemica sugli orari. Secondo l'ex assessore alla scuola provvisiero il comune ha aumentato i posti ma riducendo gli orari del servizio. L'attuale assessore Marroni replica. Non è vero. Roseto porto lavori fermi in cerca di bombe. Andiamo in vibrata. Tortoreto musica troppo alta. Stop al Manacara. Il comune chiude la discoteca per sette giorni ed è già pronto il ricorso al Tar. Chiudiamo le quattro edizioni del centro con quella aquilana. Morte sospetta scatta l'indagine. L'Aquila e i familiari dell'anziano colpa della caduta nella casa di riposo. A centropagina la fotonotizia. Purtroppo è di cronaca. Muore un bracciante mentre va a lavoro nei campi. Siamo ad Avezzano. Tragedia in Via Nuova. Teobaldo Di Carlo è morto in uno schianto mentre andava a lavoro nei campi. Nelle cronache l'Aquila insinna sul palco, accoglie il fuoco del morrone sul torione dei Collemaggio. Il 23 agosto verrà acceso il tripode della pace. Quello del fuoco del morrone che partirà il 16 dall'eremo di Sant'Onofrio. Ospiti d'onore Flavin Sin e Lorena Bianchetti. A Castel di Sangro per l'Inps è morto. Tolta la pensione ad un 84enne che evidentemente è morto. Non era. A Celano perde la vita in un nightclub mistero sulla fine di un 60enne marsicano. Il PM apre l'inchiesta e dispone l'autopsia sul corpo. Cambiamo quotidiano adesso. Andiamo sulla prima pagina del messaggero. Ovviamente la parte che riguarda la nostra regione. L'Abruzzo d'Alfonso di Missioni in arrivo. Questa è l'apertura del quotidiano. Il presidente della regione orientato a lasciare entro mercoledì, dopo l'out-out del Senato, probabilmente oggi l'annuncio ufficiale, pareri discordanti su Iter e termini della decadenza. In alto, sotto la testata, storie d'estate, palena, donne in gara per promuovere l'alto Aventino. Il caso a Pescara. Musei chiusi sopra il luogo del sindaco dopo la denuncia. Per il calcio Pescara colpo a sorpresa. Arriva Crecco dalla Lazio. Intanto Macin, il giocatore presso dalla Roma, carica la squadra. Vinceremo. Siamo un buon gruppo di spalla. Dietro i dati dello Svimez. Un Abruzzo ancora debole. Cosa che vi abbiamo raccontato ieri nel corso del TG6. Le regionarie sospese. Ancora la politica. Di Maio arriva a Pescara per dirimere il caso Abruzzo. Lo stallo del Movimento 5 Stelle. Questa sera in piazza Salotto a Pescara. Atteso è Luigi Di Maio. A centro pagina. Scendiamo. Schianto fatale sulla strada del nuovo lavoro. La vittima è un ingegnere di vasso di 23 anni. Stava andando a prendere servizio in una azienda. Vittorio Altieri, 23enne vastese. Si stava recando nello stabilimento denso di San Salvo. La zona industriale di San Salvo. L'altra tragedia. Avezzano furgone contro un muro. Morto un operaio. E poi la foto. Le regole per la passata in sicurezza. Ricordate l'altro giorno il caso che vi abbiamo raccontato a Carpinetto della Nora con tre donne ostionate. Ovviamente adesso c'è paura per chi si accinge alla classica passata di pomodoro a prepararla in questa estate in attesa dell'inverno. E allora c'è paura e ci sono delle regole per lavorare e farlo in totale sicurezza. In basso il caso dell'uomo che è stato Ibrahima Diop che ribadisce la sua versione di essere stato insultato negli uffici dell'ASL di Giulianova. Insulti razzisti, punire colpevoli dice il console senegalese. Rimaniamo in provincia di Teramo. Andando a vedere la prima pagina della città. Case agli sfollati. Avviato il censimento. Amministrazione d'Alberto. Tra le prime a muoversi in ballo 227 appartamenti per 2.569 teramani. In alto ospedale di Atri. Epidemia di gastroenterite. Una dozzina di bambini ricoverati. A centro pagina proprio il caso di Giulianova. Razzismo derubricato. A maleducazione il sindaco davanti al console senegalese. E poi di spalla sentenza terca secco i motivi del perché. Sono stati tutti assolti. A Tortoreto, turista romano muore di infarto facendo il bagno. In basso, carabinieri e tecnici ENAV sul luogo dello schianto e dell'aeroplano tedesco di un paio di giorni fa che per fortuna non ha avuto conseguenze mortali. Andiamo adesso sulle prime pagine dei quotidiani nazionali per vedere come aprono. Il Corriere della Sera. Patto a tre sui conti pubblici. Tria vede Salvini e Di Maio. Il deficit non aumenterà, scenderà il debito. Decreto mille proroghe. Slitta di un anno l'obbligo di vaccini tra proteste e accuse. E poi la fotonotizia. Il nuovo Milan, il bomber Higuain e Caldara in piazza Duomo. Davvero tantissime persone. Higuain batte il caldo. Tifosi in festa. Norme antidiscriminazioni. Scontro sulla legge Mancino. L'altolà di Conte alla Lega. Il ministro Fontana aveva detto che era una legge da abolire e però poi ci sono state molte reazioni contrarie alla proposta del ministro della famiglia Fontana. In basso, io salva con lo spray al peperoncino. Aggredita di notte a Milano, sfugge alla violenza, poi identifica l'uomo e lo fa arrestare. Andiamo all'interno delle pagine del Corriere della Sera. Questa è pagina 2. E allora parliamo di economia. Una manovra con flat tax e reddito. Coperture. L'incognita del rialzo IVA. Il governo fa il punto in vista della legge di bilancio. Lo spread sale fino a quota 270 e poi ripiega in basso la mossa che scatenerebbe la speculazione, lo scontro con l'Unione Europea sulle pensioni. Andiamo a pagina 3, sempre in primo piano. misure senza appesantire deficit e debito pubblico. Al vertice a Palazzo Chigi. Tria convince i vice premier Salvini e Di Maio. Il ministro è l'accento sulla compatibilità tra bilancio e le riforme. Andiamo avanti. Le scelte. La maggioranza blocca l'obbligo dei vaccini. Il mercato libero dell'elettricità slitta al 20-20. La novità del mille proroghe. Lorenzin, ex ministro della salute, è una vittoria dei Novax. Fattori del Movimento 5 Stelle. In dissenso si dice indignata. Il Consiglio di Stato taglia i vitalizi. Il via libera dei giudici. In basso il caso. Dal voto ai voucher. La breve luna di miele tra Di Maio e la CGL. Andiamo avanti. Attacco al colle. Via Twitter. Parte l'indagine del Copasir. Il PD. Il governo riferisca il caso dei 400 profili creati nella notte dell'impeachment. Ricorderete. qualche settimana fa le accuse che furono rivolte in maniera sguaiata al Presidente della Repubblica via web. In basso quattro poltrone senza direttore. L'occasione per le prime nomine. Rai Sport. Pubblicità. GR1 e TGR. Parliamo di Rai. Il pallino nelle mani di Salini. Amministratore delegato appena nominato in Rai. E poi il caso della legge Mancino che secondo il Ministro Fontana andrebbe abrogata. Ma Conte e Di Maio stoppano la Lega. Salvini prima la rilancia. Poi corregge. Non è una priorità. Dice l'altro vice premier. Il Ministro Guastafeste. Sempre Fontana. Del no alle famiglie gay da cattolico identitario. Io detesto il fascismo. Queste erano le prime pagine del Corriere della Sera. Repubblica. Investitori stranieri via dall'Italia. Troppi i dubbi sull'economia. Andiamo a vederla magari meglio. Repubblica così. Eccola qua. Dicevamo. Investitori stranieri via dall'Italia. Troppi i dubbi sull'economia. Spread e rialzo. Tensione del governo. Triapre sul reddito di cittadinanza e su flat tax. L'intervista nella prigione del candidato Lula. Solo io ho liberato il Brasile dalla miseria. Luis Ignacio Lula da Silva. Ex presidente del Brasile. Oggi ha 72 anni. E poi il caso. Razzismo. Abolire la legge. Ma il Movimento 5 Stelle blocca Fontana di Maio Salvini. Non è nel contratto. Poi ci sono le tante analisi che trovate sulla prima pagina di Repubblica. Al cui interno entriamo. Anche qui pagina 2 è dedicata all'economia. Conti e il vertice delle tensioni. La Lega contro la linea. Tria. Giorgetti. O si tagliano le tasse o tutti a casa. Il ministro del tesoro. Allora si aumenti l'IVA. Convocato un nuovo tavolo. Mercoledì 8. Lo spread continua a salire. Toccata quota 270. E questa è la quota a cui si è fermato. 254. Lo spread. Ovvero il differenziale tra i BTP italiani e i Bund tedeschi. In basso l'intervista a Roventini. Di Maio non segua Salvini sulle ipotesi di flat tax. È solo un regalo per i ricchi. Dice Andrea Roventini. Economista che insegna la scuola Sant'Anna di Pisa. Il contratto di governo fa paura ai mercati. Questa è il retroscena. Gli investitori lasciano l'Italia. Un incontro con Bagnaio organizzato a Roma da Mary Lynch. Lascia preoccupati molti. Secondo alcuni analisti stanno uscendo circa 100 miliardi al mese. Questo nell'incontro della Banca di investimento americana. Organizzato dalla Banca di investimento americana. Ed è riassunto anche l'ascesa dello spread dal 7 maggio, quando era a 122 punti base, fino a ieri, quando ha chiuso a 254 punti base. Come detto, lo spread è differenziale. BTP Bund ha 10 anni. Andiamo avanti. Nel borgo... Questa è l'allarme. Nel borgo senza giovani. La festa è il ritorno. A Carfizzi. In Calabria in pochi anni i residenti sono dimezzati dalla Germania al nord Italia, l'abbraccio in estate ai ragazzi emigrati. Questo è il caso della Calabria, ma ce ne sono tanti altri. E partono tutti dal rapporto Svimez, che ha parlato anche della nostra regione, ovviamente, e che è riassunto in questa lunga tabella, che dimostra purtroppo la difficoltà dei giovani a rimanere spesso nei luoghi di origine. Pagina 6. Via la legge sull'odio razziale. Poi Di Maio ferma Fontana, il ministro leghista contro le riforme Mancino, contro le norme Mancino, leader del leader 5 Stelle, che chiama Salvini. Basta con le uscite fuori contratto. Interviene anche Conte, il premier. Striglia il fedelissimo. Andiamo avanti con le prime pagine dei quotidiani nazionali. Il fatto quotidiano. Air Force Renzi ora paga all'Italia. Renzi chiese due anni per arredarlo, quello che è stato definito Air Force Renzi. L'aereo più pazzo del mondo. I retroscena. La Casellati sbugiardata. Ok al taglio dei vitalizi. Consiglio di Stato sì alla delibera FICO. Nei box leggiamoli. Incompatibilità. Consob vacilla la versione di Nava al Colle. Viale Mazzini. 5 Stelle in pressing sulla Lega. Basta foa. Esca un altro nome. Lombardia. L'avvocato dei boss nella commissione antimafia Forza Italia propone. Monica Forte che difese i capi di Cosa Nostra a Palermo. E poi fake news. Gli esperti USA. Twitter. I troll russi a impatto zero nei giorni della crisi. La questione che riguarda il ministro Fontana. Fontana via il DL Mancino. Di Maio e Conte. No. Resta. E poi Libia. Il PD ora vuole bocciare la linea Minniti sulle pensioni. In basso. Lauda correva nei cieli. In viaggio con lui nel 1996. E poi serie A. Quanto mi costi. WTV con Sky e Dazon. Il prezzo purtroppo sale ancora. Il messaggero. Ovviamente la pagina nazionale. La pagina nazionale. Flat tax e reddito a piccoli passi. Compromesso al vertice sulla manovra. Avvio parziale della riforma fiscale solo per gli autonomi. Fondi ai centri per il lavoro. Mattria avverte. C'è il nodo risorse. Rassicura i mercati. Sullo spread. Vediamo anche le altre notizie. Spaccatura del Movimento 5 Stelle. Vaccini l'obbligo slitta ancora. I medici sono perplessi. Razzismo. Scontro sulla legge Mancino. La Lega dice da abolire. No. Di Conte e Di Maio. Intanto Daisy andrà agli europei. L'atleta italiana ferita qualche giorno fa. Polemica. Renzi Salvini sulle uova. Esodo al via. Ci avviciniamo al Ferragosto. Le auto nel mirino dei tutor. Anche per la revisione sono montati sui mezzi delle forze dell'ordine. Prime multe a distanza ma sono impugnabili. E poi May Macron. Dialogo a due sulla Brexit. Summit in Costa Azzurra. Teresa dribbla i negoziatori UE. Questo vertice tra il presidente francese e il primo ministro inglese. Proprio sulla uscita che dovrebbe essere almeno sulla carta a primavera 2019. Libero antirazzismo da strapazzo. Tutte le cantonate prese dai salottieri progressisti. Per ogni cosa la sinistra grida la xenofobia. Poi la realtà le dà torto. Rai d'antimigranti a Roma. L'autore ha il tatuaggio del CE. Camper Rom brucia con due bimbe. I responsabili sono nomadi. Cacca nel giardino della Chiang. È stato il vicino per vendicarsi del cane. Desi colpita all'occhio. Sono ragazzi democratici. E poi a centropagina Alfano avvocato a Milano. Nuova vita di Angelino. L'unico che ha lasciato la politica per lavorare in basso. In agosto bloccate le cartelle fiscali. L'agenzia delle entrate affila i coltelli per l'autunno. Andiamo avanti. Il manifesto. Solito titolo ad effetto. Tiro Mancino. Quello che riguarda il ministro Fontana. Legge Mancino contro l'odio razziale va abolita. La sparata del ministro leghista Fontana. Provoca l'ennesimo scontro nel governo. Salvini lo copre. Conte lo sventisce. Di Maio sbotta. La legge rimane lì dove a Napoli e Pistoia si spara davvero. Feriti due migranti in alto. Un decreto che ha perso dignità. Voucher contratti a termine. L'intervista a Susanna Camusso. Altre notizie. All'interno la manovra. Reddito e flat taxi parte subito. I mercati tremono. E poi fudora a Dio Italia. La multinazionale getta la spugna. Il mercato dice che è difficile l'azienda tedesca. E poi i reporter russi uccisi indagavano sulle miniere d'oro. Andiamo avanti. Il sole 24 ore. Lo spread vola. Flat tax e reddito di cittadinanza senza deficit. Legge di bilancio. Il differenziale BTP Bunda raggiunge i 268 punti per poi chiudere a quota 254. Conte ha avviato processo di riforme per una crescita più robusta dell'Italia. Tria conferma compatibilità tra l'avvio delle riforme e gli obiettivi di bilancio. La tenuta dei conti. Prudenza al timone per evitare il naufragio. Maxi bonus via la stretta sui macchinari all'estero. Decreto lavoro. Niente revoca dello sconto a imprese che trasferiscono i beni temporaneamente. Adesso andiamo sulle prime pagine dei quotidiani sportivi partendo con la gazzetta dello sport. Questa è la prima pagina. Delirio pipita. L'entusiasmo rosso-nero decolla in Duomo. Iguain ho una missione, riportarvi al top. Caldara, qui si fa la storia. Nuovo Milan, paradiso, così viene definito. E poi la foto grande, l'urlo di Skriniar. Inter sei forte, attenta Juve, non ci fai paura. Ronaldo è più veloce di me, però puntiamo a far strada in Champions. Mai pensato di andare via da qui e in Italia. Non indosserò altre maglie. Altre questioni di mercato che riguardano l'Inter. Modric è la promessa reale che fa sperare i nerazzurri. In basso altri sport, le bellissime notizie che arrivano dal ciclismo su pista. Viviani, una locomotiva del trenino d'oro, vincono Viviani, Bertazzo, Lamon, Scartezzini e Ganna. Invece le azzure arrivano seconde. europei di nuoto, nuoto d'argento con Cusinato e Giganti, 4 per 100. Altre notizie, Ricciardo Renaud, addio alla Red Bull. Lauda, cova indotto, ma di corso positivo. L'Olimpia Milano di Armani, 10 anni di successi. Altre notizie di calcio. Oggi c'è il test reale per la Juve. CR7 Bonucci, il patto bianconero per la Coppa inizia a tavola. Entriamo all'interno per vedere l'intervista proprio a Milan Skriniar. Il muro di Spalletti, così viene definito. Un Inter così punta al top. Vivo di calcio, ho voglia di Champions. E non temo, CR7. E poi la promessa di Modric. Siamo a pagina 5. Luca, il Real e le parole di Florentino. L'Inter resta in attesa e non molla. Mercoledì il regista croato vedrà il presidente. Un patto tra i due potrebbe aprire la strada verso i Nerazzurri. Andiamo avanti. Nuova era Milan. Il Chelsea, l'ami voleva solo Sarri. Con la Juve nessun trauma. Qui grazie ai bianconeri. Poi bagno di folla in Duomo. Orgoglio, Higuain. E Higuain che parla. Ho una missione. Riportarvi al top in basso. Sfida californiana contro il Barca. Cialanoglu da Mezzala e Andresilva. Falso, che poi in realtà è vero. Falso 9. Dall'altra parte invece l'altro giocatore, fiducia è Dostoievski. Caldara, l'eredità pesa. Ma qui si fa la storia. Il centrale che ama i romanzi russi avrà il 33. Esattamente come un grande del passato del Milan. Ovvero Tiago Silva. Scarone, intanto il presidente, dice l'amministratore delegato. Non c'è urgenza, lo faccio io, ma è transitorio. Gazzidis e Gandini, i resogni indiziati. Ma dipende tutto dal primo. E poi andiamo in casa Juventus. Tra Leo e Cristiano. Un patto di ferro per la Champions. Bonucci ieri si è allenato con CR7. Gli ha consigliato il ristorante per la prima uscita. Insieme puntano all'Europa. Questa era la gazzetta dello sport. Questo è il Corriere dello sport che apre con Pippita. Che in realtà potrebbe sembrare a prima vista un insulto. Ma poi basta leggere per capire che dopo Pippo Inzaghi, ecco il perché, il Milan ha bruciato una decida di centravanti. Ibra l'eccezione. Adesso finalmente ha chi può interrompere la maledizione. Higuain che dice, ho la pelle d'oca. Ha spiegato, con allegri vedute differenti. Meno traumatico lasciare Torino che Napoli. Sarri stima infinita, ma era l'unico al Chelsea che mi voleva. E poi il commento di Roberto Perrone, come Jack Sparrow. E poi in alto Bonucci, l'ora dello sciacquo. Ogni viaggio termina con un ritorno. Così Leo sui social ringrazia il Milan e ammette. Dimostrerò con il lavoro tutta la mia voglia di tornare in quella che sento ancora casa. Altre notizie. L'Inter ha una carta sorpresa. Modric distante. Ausilio apre un nuovo fronte. Il Croato potrebbe incontrare Perez l'otto per l'ultimo tentativo. Mister X non è un play. Lunedì il Barcellona presenta Arturo Vidal. Il ciclismo invece è d'oro. L'acqua è d'argento. Giochi europei di Glasgow vince il quartetto azzurro. Nel nuoto Cusinato 4% e sincro sul podio. E poi per la Formula 1 Ricciardo finisce alla Renault. Vediamo la pagina prima di Tutto Sport. Festa Pogba per la Juve. Altro strappo tra il francese e Mourinho. O con la Juve che probabilmente sogna di riportarlo. Altre notizie. Iago al Siviglia si tratta. Zazza con Melotti si può. Il Milan non si ferma più. Kovacic prossimo colpo. Invece l'Atalanta. Dea l'euforia alle stelle. Inter a Modric. Andrà un mega ingaggio. Ci fermiamo qua. Adesso le previsioni del tempo. Poi la pubblicità. E poi torneremo insieme per vedere i giornali di casa nostra. Seconda parte di Mattino 6. Come detto adesso andiamo sui quotidiani di casa nostra. Ripartiamo dunque con il centro. E con il mistero sui funerali di Marchionne. Tenuti all'oscuro. Anche i parenti tiatini e pescaresi. Ma il corpo sarebbe stato cremato. E le ceneri già tumulate a Toronto in Canada. E poi a centro pagina. Artigiani torna la crescita dopo tanta crisi. Uno studio della CNA fotografa. Un incremento di 39 imprese. Ma vanno ancora male le costruzioni. A pagina 3. L'Abruzzo verso le elezioni. D'Alfonso. L'atto finale c'è a settembre. Si legge. Mercoledì esce di scena. Ma non basta per sciogliere il consiglio. Oggi Di Maio a Pescara. Smargiassi partecipa. Sabatini invece no. E il governo Movimento 5 Stelle osserva. Tre leggi della regione Abruzzo. La brutta notizia. La vigilia dell'ultimo consiglio. Andiamo adesso alla pagina proprio Abruzzo. Sono premiati gli ambasciatori della nostra regione. Tagliacozzi. Il riconoscimento della regione a Giorgio Toschi. Filippo Giorgi. Roni Pedro Colanzi. E Laura Benedetti. Sono le storie della nostra regione. Queste le foto della giornata e della premiazione. Per l'appunto. Andiamo adesso sulla pagina di Pescara. Il piano parcheggi. Balneatori no alla sosta. Pagamento sulla riviera. Tra i titolari degli stabilimenti bocciano le proposte del comune sulle nuove tariffe. La rivoluzione della sosta con questo specchietto che riassume quelle che sono. In questo momento soste a pagamento. Lo so. 998 posti auto. Sosta con disco orario 454. Tutti i numeri dei parcheggi a Pescara. E quelli a pagamento evidentemente che sono osteggiati dai balneatori. Dall'altra parte area di risulta. Il progetto fa litigare la maggioranza. Scontro in commissione sulla concessione assegnata al dopolavoro ferroviario. Le liste civiche non votano la delibera. L'approvazione in consiglio. Adesso è a rischio. Paura in via Lago di Capestrano. Perché aggredisce la vicina di casa con l'accetta. L'uomo affronta con un martello anche l'inquilino. Che tenta di difendere l'anziana. E gli danneggia l'auto con una sedia. E poi in basso ronde nei parchi contro il rischio incendi. Il comune istituisce un servizio di pattugliamento notturno della protezione civile. Nel periodo estivo. Ospedale di Pescara di Egidio. Torna a radiologia. Abbatterò le liste di attesa. Dopo tre anni a Teramo. Il primario riprende la guida dell'unità interventistica. Stiamo censendo le richieste urgenti di TAC. Risonanze. Per gestirlo al meglio. E poi l'allarme del fondatore dell'associazione. Chiedono fondi per i clown in corsia. Persico dice. È una truffa. È proprio lui stesso a lanciare l'allarme. Contro chi richiede fondi. Ma evidentemente non per l'associazione. E poi questa bella storia. Trova 1.500 euro. Le restituisce un 25enne di origini pakistana. E riconsegna il portafogli a Gabriele Bancoschi. Che vediamo nella foto. Patron della Renato Curi. È angolana. Un gesto bellissimo. Il proprietario. Credevo di non riaverlo più. Dentro c'erano due banconote da 500 euro. Altri contanti, assegni e carte di credito a Montesilvano. Gli equilibri della maggioranza. Palumbo lascia Forza Italia. E la Lega chiede il rimpasto. L'annuncio del leghista Orsini. Che reclama due posti in giunta per il movimento. Ad oggi sono rimasti con Berlusconi. Solo il sindaco e il consigliere Falcone. A Montesilvano con le cuore artistici nel borgo per la processione di domani a centropagina di Giacomo. L'eredità in biblioteca donati alla città i volumi dell'associazione presieduta dal medico scomparso. In basso all'emporio solidale i prodotti coltivati negli orti sociali. Altra pagina. Siamo a pagina 30. Sacche di plasma e urina lungo il fiume Montesilvano. Un materiale abbandonato lungo gli argi. La scoperta dell'associazione Nuovo Saline Onlus. Insomma una scoperta che vediamo riassulta seppur in parte in questa foto. A Carpineto della Nora restano gravi le due donne ustionate in garage mentre preparavano le conserve di pomodoro. In basso via Salieri. Alloggi pronti nel 2019. Il vice sindaco non resteranno incompiuti. Mancano le rifiniture. Andiamo avanti. Siamo a Francavilla al mare. Via i lavori per 90.000 euro negli istituti Michetti e Masci. Manutenzione delle scuole ovviamente. E poi a San Giovanni Teatino. Campo sportivo troppo costoso. Il San Buceto calcio. Trasloca e va altrove. Sempre in basso. E sempre a San Giovanni Teatino. Interventi per 3.400.000 euro su strade e sulle scuole. A Serra Monacesca. Luoghi e sapori con Magna Maiella. Lunedì la passeggiata da Passo Lanciano a Serra Monacesca. Con bus navetta, guide e degustazioni lungo il percorso. Ad Abbateggio. Cade in montagna recuperata dall'elicottero del 118. Siamo a Chieti. L'inchiesta Unidav. Si allarga 10 indagati. Bando sotto accusa. La Procura ipotizza il reato di turbativa d'asta. Per l'assegnazione del pacchetto di maggioranza all'Università Slovacca. S.V.S. Questo è il documento che vediamo riprodotto qui al centro della pagina. L'altro filone riguarda presunti ammanchi da un milione per ristrutturare una villa. In basso, all'adannunzio, via all'esonero dalle tasse. Varate le regole per l'accesso ai benefici. Ecco quando è possibile non pagare l'iscrizione ai corsi. La tragedia a San Salvo. Muore a 23 anni nello schianto in moto. Vittorio Altieri di Vasto finisce contro un camion del Conad. L'ingegnere andava alla Denso per uno stage formativo. Davvero una tragedia. Nel Vastese una lunga scia di sangue. Sei vittime, pensate, in soli due mesi. Vittorio amava la famiglia e lo studio. Così giovane era già laureato. Aveva iniziato a lavorare addolorati lavoratori e dirigenti della Denso. In basso, a Lanciano, l'urologo Schipse e il Mastro Giurato 2018. Il professore sfilerà con 700 figuranti sul nuovo corso nel corteo storico del prossimo 2 settembre. A Teramo, il giudice, la banca era solida. Ovviamente ci riferiamo alla Tercas, il processo sulle azioni ex Tercas. E non voleva truffare i clienti. Le motivazioni delle 28 assoluzioni di dirigenti dipendenti, tra cui l'ex direttore generale Di Matteo. Niente raggiri sulla vendita ai risparmiatori. Il commissariamento era un'ipotesi non prevedibile. Queste sono le motivazioni della sentenza che sono state rese note. Bambini in ospedale per gastroenteriti. Ad altri ricoverati 12 piccoli in vacanza a Silvi. L'Asler, nessuna allarme, rientra tutto nella casistica. Mentre a Roseto porto lavori bloccati per cercare le bombe. La guerra dei Decibel. Il comune spegne ancora il Manacara. Sette giorni in stop per le attività musicali. Siamo a Tortoreto. La proprietà impugna il divieto e chiede la sospensiva al Tar. Sempre a Tortoreto. Turista muore mentre fa il bagno. L'anziano accusato malore in mare. Soccorso è trasportato a riva. Non ce l'ha fatta a riprendersi. E poi altre notizie. Martinsicuro, donna arrestata, ha violato la sorveglianza. Aereo precipitato. L'Anav conferma. È stato un guasto. Pineto in bici. Parte da oggi il noleggio per turisti e residenti. 120 le biciclette messe a disposizione dal comune. Dal comune Parco Marino, Lega Ambiente e Proloco. 8 le postazioni distribuite lungo la fascia costiera. Dove prendere e poi riconsegnare i mezzi ad Atri. Piano di rilancio per il centro. Il sindaco annuncia nuovi parcheggi e modifiche alla viabilità. Mentre il gruppo Atricivica, inadeguato il mezzo usato per il trasporto pubblico. All'Aquila, morte sospetta di un anziano, si indaga. Decesso causato dai postumi di una caduta quando era ospite a Casa Serena, dicono i familiari. La replica? Sono sospetti, totalmente infondati. E poi, questa notizia curiosa. A Casteldisangro per l'Inps è morto, revocata la pensione. Pagamento sospeso per un'omonimia. La moglie è rimpallati da un ufficio ad un altro. E poi, Daniele e Lorenzo. Il SIE, il volo in America, Unione Civile, parenti e amici a Palazzo Fibbioni. La storia del ricercatore universitario e dello studente. Tragedia ad Avezzano. Muore mentre va a lavoro nei campi. Schianto fatale per un bracciante di 57 anni. Di Carlo lavorava con l'azienda Aciulli. Un uomo educato e disponibile. A centropagina, Celano, cliente perde la vita in un nightclub misteriosa fine di un sessantenne marsicano. La procura apre un'inchiesta e dispone l'autopsia. In basso, Scanno fa debuttare la tassa di soggiorno. Tariffe da 2,50 euro a 1,50 a notte. In vigore da oggi, la giunta impone ritocchi più servizi per i turisti. Qui siamo allo sport e allora, adesso cambiamo quotidiano. Vediamo il messaggero, le spine della politica. Caso D'Alfonso, mercoledì le dimissioni. In indiscrizione il passo indietro del Presidente della Regione dopo la deliberazione della giunta alle elezioni dell'Assemblea. E poi regionarie congelate. Siamo in casa 5 Stelle, arriva Di Maio per risolvere lo stallo dell'Abruzzo. In basso, urbanistica, la prudenza del lancio sulla riforma firmata. Di Matteo. A Pescara, fornelli e bombole. Regole per la conserva. L'incendio di Carpinetto della Nora, con tre donne ustionate, svela i pericoli della preparazione della salsa di pomodoro. Materiali, comportamenti, misure di cautela. Il decalogo del comandante dei Vigili del Fuoco, Vincenzo Palano. Intanto le ferite, sempre grave la vicina. Migliorano invece mamma e figlia, ovviamente a Carpinetto della Nora. E poi in basso, quel rito antico fatto di condivisione tra sveglia all'alba e sapienza di famiglia. Il rito della passata di pomodoro fatte in casa. A Pescara, musei chiusi e disagi. Ieri il sopralluogo del sindaco Cicerone. La segnalazione dei due turisti ha messo in moto Alessandrini, che ha verificato i lavori al Cascella, accompagnando pure due inglesi. E poi giungla d'asfalto, pedoni e ciclisti, riunioni in comune per cercare un tavolo permanente con assessore e polizia municipale, analisi e valutazione e interventi per migliorare la sicurezza stradale. Per la cronaca, finisce a sprangate la lite a Rancitelli, un pregiudicato in ospedale con una prognosi di due mesi. La causa di tutta una discussione per un furgone sequestrato. L'omertà dei testimoni ostacola il lavoro di indagine. Si cercano collegamenti con l'aggressione di una donna. E poi, false griff, maxi sequestro sull'asse Roma-Pescara. Scoperti i laboratori, arrivano cinque denunce. A Montesilvano, cancellate le norme pro grattacieli. Il Consiglio vota la riduzione dell'indice di edificabilità di tre metri cubi per un metro quadro. Non mai più funghi di cemento. Dopo 17 anni di manica larga, si scende a un rapporto di 2 a 1. All'Aquila, morte di caos. Il pastore tedesco, che vedete il ritratto nella foto, la procura continua l'inchiesta. Si cerca di stabilire chi abbia utilizzato il prototossico usato come l'umachicida. Ma le analisi dello zooprofilatico continuano. Ci sono altri inquinanti, è la domanda che si porranno. E poi la polemica, riperimetrazione, il caso di Via Roi. Ovviamente siamo ancora all'Aquila. In basso, vaccinazioni più locali e servizi dal nuovo scolastico. E poi all'Aquila, Antonini, la disgrazia diventi un'opportunità ai 50 anni di sacerdozio. La ricostruzione punti sulla qualità estetica assieme a tecnica e sicurezza. Arrivato fin qui, spero soltanto di essere ancora utile alla mia gente. E poi in basso, perdonanza, fuoco del Morrone in Basilica. Siamo ad Avezzano, incidente all'alba, muore un operaio. Non c'è stato niente da fare per Teobaldo Di Carlo. 57 anni, si è scantato contro un muro con il suo furgoncino Fiat. La tragedia è in Via Nuova sulla strada che porta al Fucino. L'ipotesi al vaglio, l'alta velocità oppure un attimo di distrazione. A Capistrello, gestione degli appalti, indagati salgono a 13. Ci spostiamo a Sulmona, centro di accoglienza via ai trasferimenti. E sempre a Sulmona, centro traumatologico. Il sindaco Casini rilancia a Chieti. Università gratis per i superbravi e i ragazzi con un reddito basso. Ecco, tutte le novità sulle tasse previste al regolamento dell'adannunzio. Esenzione per i neodiplomati con 100 e per chi ha almeno la media di 28. Farmacia, la giunta punta ad incassare 1.400.000 euro. Altre notizie OPS. La sfida è piazzare i mega uffici di Selva Yezzi. In basso vediamo la prima edizione di Donna Ventino, tra viaggi e avventura, che si terrà domani a Palena. Schianto in moto, muore a 23 anni. La vittima, il vastesa Vittorio Altieri, andava alla Denso per uno stage. Appena qualche giorno fa si era laureato. Fatale per il giovane ingegnere lo scontro con un camion in via Bellisario. Inutile il ricovero all'ospedale di Teramo. Davvero sfortunato questo ragazzo. A Lanciano Ecolan vince la causa con TAC. Intanto entrano altri comuni. A Ortona, furti nelle auto dei turisti. Viene arrestato in basso. Il professor Skips sarà il mastro giurato. A Teramo, AFA, malori in aumento. Ma la task force regge bene. Non c'è più la coda degli anziani al pronto soccorso dei quattro ospedali. Grazie al potenziamento delle ambulanze, le reidratazioni sono fatte quasi a domicilio. Tercop, debito dilazionato per poter pagare gli stipendi. Ovviamente siamo a Teramo. In basso, infarto in spiaggia. Muore anziano turista a Tortoreto. L'allarme, appartamento in fiamme. Dichiarato inagibile. In via Rivacciolo a Teramo. Insulti razzisti. Punite il responsabile. Console sulla vicenda di Oppi. Ibrahima non è un bugiardo. Adesso aspettiamo che la magistratura faccia il suo lavoro. Sindaco Mastromauro. Queste situazioni non vengono politicizzate. Ma devono spingere a seminare il rispetto verso gli altri. A Giulianova sempre ruba il supermarket di Via Galilei. Picchia il vigilante. Poi scappa in basso. Vediamo altre notizie. Roseto blitz contro gli ambulanti sui bus. E in stazione oltre 20 mila euro di multe in Val Vibrata. Paglio del Barone si fa in due. Martinsicuro celebra le bici. Ad Alba Adriatica. Il mondo del fratino. Tour sui lidi per bimbi. E allora andiamo proprio in provincia di Teramo. Tornando sulla vicenda dell'ex Tercas. Andarono per guadagnarci e rimasero fregati. Nelle motivazioni della sentenza d'assoluzione. Il giudice ricostruisce i dettagli delle operazioni sulle azioni della Tercas. E qui vedete una pagina dedicata esattamente a questa vicenda. Avviato il censimento per le case agli sfollati. L'amministrazione d'Alberto tra le prime a muoversi. In previsione 227 appartamenti per 2.569 cittadini. E poi a centropagina Tercoppa ha chiesto di rateizzare il debito. Il comune si dice disponibile a rischio gli stipendi della cooperativa. Per le scuole avanti col piano Anna Ferrante. Sicurezza e nuovi spazi. Insediato il tavolo tra amministrazione e Teramo Children. Altre notizie. Vediamo il primo giorno di scuola fissato per il 10 settembre. Sempre per la scuola. Più bimbi all'asilo ma non avranno il tempo pieno. L'ex assessore provvisiero critica. Le famiglie andrebbero informate in maniera trasparente. E poi il sindaco d'Alberto ospita a sorpresa a Carapollo qualche mugugno in via Delfico per la visita mattutina di D'Alberto e di Bonaventura. In via Rivacciolo abitazione in fumo per un acquario in cortocircuito. A dare l'allarme è stato il proprietario che si è rifugiato sul balcone al piano di sopra. Pioggia di richieste per costruire la fattoria dell'IZS. L'appalto di collaterrato Fiorallocchiello del Caporale. Inattivo e in crescita su ricerca e sulla formazione. Andiamo avanti. L'incidente aereo. Carabinieri e tecnici sul luogo dello schianto. Avviate le indagini tecniche sull'ultraleggero tedesco precipitato tra i boschi di Fosso Venacuaro. Queste sono le immagini. È stata ovviamente analizzata la situazione. Stroncato da un malone durante il bagno. Turista romano in vacanza a Tortoreto muore nonostante i tentativi di rianimazione. Poi ennesima truffa con la casa fantasma per l'estate. Questa volta un turista veneto è finito nella rete di due finti proprietari. Maximulta. Siamo a Santomero. Il distributore all'abbandono. I vigili di Santomero riscontrano il mancato rispetto del servizio minimo e il grave stato di incuria dell'area. Razzismo derubricato. Siamo a Giulianova. A maleducazione. Mastromauro convoca il console del Senegal per il caso del cameriere insultato. Ma alla fine il motivo della conferenza viene ridimensionato dal sindaco stesso. E poi siamo ad Atri. Epidemia di gastroenterite tra bambini. 12 casi ieri registrati al San Liberatore. Ma non c'è emergenza. Adesso apriamo la pagina dello sport di casa nostra. L'avete appena vista. La pagina del centro. Il Pescara ingaggia Crecco. Preso anche il Baby Scalera. La mezzara arriva dalla Lazio a titolo definitivo. Il terzino resterà la Pistoiese. Macin dovrà ripagare la fiducia della società. E dice siamo più forti rispetto allo scorso anno. In basso le parole di Gianni De Biasi. Con Pillon e il Delfino in ottime mani. L'ex CT dell'Albania. Memusciai ottimo calciatore e ragazzo straordinario. Brugman un talento puro. Dalla pagina 43 siamo in Serie C. Teramo in salita le trattative per Pobega e Bolis. Concorrenza guerrita per i giovani di Milano e Atalanta. L'attaccante Bacio Terracino dice felice di essere rimasto. Il Giulianova siamo in Serie D. Vitelli saluta e firma per il Vigasio. I giallorossi devono rinunciare all'attaccante. Via Malincuore. Eccellenza Gentileschi al Capistrello. Chieti in arrivo il portiere Alonzi. E poi le amichevoli. Fiore e Leonetti show per la Vastese. Piazzano K.A.O. 7-0 a Colle di Mezzo. Nero Stellati e San Salvo danno spettacolo. Raiano finisce 4-4. E poi lo sport abruzzese in rete. Tweet, like e fan. Così cambia il calcio nell'era dei social. Il Pescara è il primo posto nella graduatoria. Facebook, Twitter e Instagram. E poi il Matteotti si scalda. Già iscritte 22 squadre. La 71esima edizione del trofeo in programma il 23 settembre a Pescara. Presenti anche la Movistar di Quintana e la Dimension Data di Mark Cavendish. Andiamo adesso sulle colonne del messaggero. Il giovane Macin lancia il Pescara. Vinciamo. Il gioiellino riscattato dalla Roma in estate vuole diventare protagonista. La prossima B sarà durissima. Ma noi, dice, non siamo inferiori a nessuno. E poi il colpo a sorpresa dalla Lazio. Arriva Luca Crecco. Arrivo a titolo definitivo. In basso per il Beach Volley World Tour. Lupo e Nicolai irriconoscibili. La coppia di punti italiane è eliminata ai sedicesimi. Dopo il KO europeo. Una prestazione da dimenticare. Cambiamo pagina. Gli Annone a Brnoi. Cerca il riscatto. È una pista che mi piace. Ricordo la vittoria in Moto2 del 2011. Dopo la sosta di due settimane mi sento rilassato. È più allenato. Altre notizie. Il Teramo a caccia del vice di Mastrille. Di una mezzale. Il 19enne Fiordaliso. Non è certo che possa essere liberato dal Torino. Mentre Vitelli lascia il Real Giulianova. Oggi c'è l'amichevole dei giallorossi contro il Nereto. In basso gli Sharks dal 16. Il ritiro Porta Fortuna. E in Umbria. Ovviamente parliamo di basket. Acqua e Sapone. Campionato a 12 squadre. al Via il 29 di settembre. E con questa notizia noi chiudiamo questa edizione di Mattino 6. Che ovviamente torna lunedì puntuale alle 8. A me non resta che ricordarvi gli appuntamenti con la nostra redazione. La prima edizione del TG6 alle ore 14. e poi la seconda edizione alle ore 19. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon sabato e un buon fine settimana. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon fine settimana. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon fine settimana.